oggi partiamo dalle melanzane avevo quattro piccole melanzane le ho sbucciate e fatte prima a fette e poi a striscioline fette e poi a striscioline poi cosa facciamo prendiamo uno uno scolapasta e gli mettiamo dentro le nostre melanzane a strisce alternandole con il sale quindi facciamo perdere un po di acqua alla melanzana perché ci serve che non sia troppo piena d'acqua per la ricetta che voglio preparare quindi mettiamo il sale e lasciamo per una mezz'oretta prepariamo la padella strizziamo le melanzane mettiamo dentro la padella già accesa le nostre melanzane e iniziamo a farle andare un pochino con una bella manciatina di capperi dissalati quindi messi a bagno qualche minuto strizzati e messi dentro man mano aggiungiamo ho preso una manciata di pomodorini secchi li ho fatti a striscioline anche queste molto piccole pezzettini strisciolini come volete eccole qua poi ho preso un paio di ramettini uno di menta e l'altro di timo eccolo qua sbricioliamo tanto poi rovesciamo tutto dentro la padella un peperoncino attenzione non esagerare col peperoncino bello spicchio d'aglio dice ma non è messo olio no perché già c'è l'olio che contiene contengono i pomodori le mie ricette sono piuttosto indietro con i grassi lo sapete no avete imparato a conoscermi quindi quindi sfruttiamo l'olio che contengono i pomodori tanto comunque la fiamma non è alta non si brucia nulla piano piano si cuoce aggiungiamo nel frattempo aggiungiamo quattro cucchiai di aceto di mele si tre cucchiai di aceto io ho usato l'aceto di miele e mezzo bicchiere di vino bianco facciamo sfumare giriamo ancora un pochino e poi chiudiamo lasciamo che si cuocia quindi le melanzane si devono cuocere per almeno una mezz'oretta e questo è il nostro risultato ti è piaciuto questo contorno a noi sì tanto e io come al solito vi aspetto alla prossima ricetta ciao ciao